449 nuovi casi, tasso di positività al 7,3%, quasi triplo rispetto a ieri, aumento dei ricoveri in area medica e in terapia intensiva. Cresce la curva del contagio Covid-19 in Abruzzo, con i tamponi che si attestano oltre quota 6.000 fra molecolari e antigenici rapidi. Continuano a registrarsi i decessi, 4 quelli segnalati oggi dal bollettino regionale, ma 3 si riferiscono a giorni precedenti. Il totale delle vittime da inizio emergenza così tocca quota 1.482. Se da un lauto aumentano le guarigioni, 488 in più rispetto a ieri, il numero degli attualmente positivi è solo in leggera flessione, scende di 43 unità e si attesta poco sopra le 10.000. Nel giorno in cui l'ospedale Covid di Pescara raggiunge la saturazione ed i pazienti sono così costretti ad essere trasferiti al San Salvatore dell'Aquila, c'è un'impennata dei ricoveri in area medica, più 13, e, a saldo tra nuovi ingressi e dimissioni, un aumento più contenuto delle terapie intensive, più 3. Dunque sono occupati 427 posti in area medica e 47 in terapia intensiva, con questi ultimi che tornano ad avvicinarsi pericolosamente alla soglia critica fissata dal Ministero nel 30% dei posti totali disponibili nelle asla abruzzesi.